Caso di cronaca nera, la vittima Alberto, 17 anni, deceduto proprio questa mattina. Il giovane si trovava nella sua abitazione, aveva appena ricevuto un video da parte dello zio. Il video mostra un fruttivendolo che urla, signora, i limoni, signora. Nonostante gli innumerevoli messaggi che il ragazzo avrebbe mandato allo zio per avvertirlo delle sue pessime condizioni fisiche, l'uomo non avrebbe fatto nulla per aiutarlo. Il ragazzo infatti aveva mandato un primo messaggio di allarme allo zio scrivendo No vabbè zio sto male, seguito da No vabbè zio non ce la posso fare, ma lo zio si limita a rispondere con un semplice pollice in su. Poi il ragazzo prosegue con successivi messaggi di allarme scrivendo No zio non hai capito, mi sto sentendo male, non respiro, mi è collassato un polmone, sto morendo, muoio zio. Moio, questo è l'ultimo messaggio del povero Alberto, prima di perdere la vita, seguito dall'ultima risposta dello zio Sei un grande Grazie Grazie Grazie